Co-presidente del gruppo Libertà e Democrazia, Mr. Nigel Farage, a voi la parola. Ebbene, noi siamo qui sulla soglia di un disastro finanziario e sociale. E oggi in questa sala abbiamo quattro uomini che sono probabilmente responsabili. Abbiamo ascoltato dei discorsi più noiosi e tecnocratici che mi sia stata data la possibilità di ascoltare. Voi siete tutti nella negazione. In tutta obiettività l'euro è un fallimento. E chi è esattamente il responsabile tra voi? Evidentemente la risposta è nessuno di voi, perché nessuno di voi è stato eletto. Nessuno di voi ha la minima legittimità democratica per il ruolo che avete attualmente in questa crisi. E in questo vuoto, anche se a malincuore, è intervenuta Angela Merkel. E noi viviamo adesso in un'Europa dominata dalla Germania. Qualcosa che il progetto europeo aveva infatti previsto di fermare. Qualche cosa per il quale quelli che ci hanno preceduto hanno pagato caro con il loro sangue a fine di evitarlo. Non voglio vivere in un'Europa dominata dalla Germania e neanche i cittadini europei. Ma voi avete giocato un ruolo. Perché quando Mr. Papandreo ha utilizzato la parola referendum, Mr. Ren, voi l'avete descritto come un abuso di fiducia. I vostri amici qui si sono riuniti come un gruppo di iene, attaccandosi a Papandreo. Ne avete fatto un pacco e l'avete rimpiazzato per un governo fantoccio. Che spettacolo ripugnante. E non soddisfatti di questo, avete deciso che Berlusconi doveva partire. Quindi è stato destituito e rimpiazzato per Mr. Monti, un vecchio commissario europeo, un architetto affiliato a questo euro-disastro, un uomo che non era neanche membro del Parlamento. Diventa come un romanzo di Agatha Christie, dove cerchiamo di stabilire chi è la prossima persona che sarà liquidata. La differenza è che noi sappiamo chi sono i cattivi. Voi dovreste tutti essere ritenuti responsabili di quello che avete fatto. Dovreste essere tutti licenziati. E devo dire, Mr. Van Rompuy, 18 mesi fa, quando ci siamo incontrati per la prima volta, mi sono sbagliato su di voi. Avevo detto che sareste stato l'assassino silenzioso della democrazia degli stati. Ma non è più il caso, perché voi siete piuttosto rumoroso a questo soggetto. Voi siete un uomo non eletto. Siete andato in Italia e gli avete detto non è il momento per le elezioni, ma è il momento per le azioni. Buon sangue! Chi vi dà il diritto di dire questo al popolo italiano?